La tragedia del mercatino ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ambulante. Chiuse le indagini sull'esplosione al mercatino di via Madonna del Rosario, la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio del titolare del camioncino che dovrà rispondere di omicidio colposo aggravato, incendio e lesioni gravi. Quel 5 giugno del 2019 a causa dell'esplosione di una bombola di gas persero la vita due donne e altre 15 persone rimasero ferite. L'ambulante deve rispondere anche di una lunga serie di violazioni amministrative delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Per gli investigatori sarebbe stata violata la disciplina anche sulla tenuta delle bombole GPL. Confronto aperto tra i rappresentanti ZES e gli imprenditori locali. I rappresentanti della ZES Sicilia orientale hanno incontrato stamattina gli imprenditori locali per rispondere alle domande ai dubbi che vertono sullo sviluppo sostenibile di Gela. All'incontro hanno partecipato anche l'assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano e il sindaco Lucio Greco. Tangenziale appalto entro l'anno o rischio taglio. L'investimento a 300 milioni di euro per la nuova tangenziale va verso la fase decisiva. Il senatore Pietro Lorefice spiega che si deve arrivare all'affidamento dei lavori entro fine anno per evitare il pesante rischio del definanziamento. Ci sono però pareri che vanno ancora a rilento. Arancio scrive a Draghi riaccendere i riflettori sul progetto ciliegino. Il parlamentare regionale del PD Giuseppe Arancio ha scritto al presidente del Consiglio e ai ministri Mario Draghi e ai ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico affinché si riaccendano i riflettori sul parco agrofotovoltaico che avrebbe dovuto sorgere nelle campagne gelesi. Il deputato gelese è convinto che il progetto possa essere ancora valido per la nuova filiera della produzione di agroenergia inserita anche nel PNRR. Beni culturali e legalità studenti e istituzioni a confronto. Un incontro tra studenti e istituzioni per parlare della tutela dei beni culturali e della legalità si è tenuto ieri mattina al liceo classico Eschilo. Presenti all'evento anche il prefetto di Galtanissetta Chiara Armeni e il procuratore Capo Asaro, oltre alle forze armate che operano direttamente sul territorio per la tutela dei beni culturali. Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziario parlando della tragedia del mercatino di Via Madonna del Rosario perché chiuse le indagini sull'esplosione, la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio del titolare del camioncino che adesso dovrà rispondere di omicidio colposo aggravato, incendio e lesioni gravi. Quel 5 giugno del 2019 a causa dell'esplosione di una bombola di gas persero la vita due donne e altre 15 persone rimasero ferite. L'ambulante dovrà rispondere anche di una lunga serie di violazioni amministrative e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro per gli investigatori. Sarebbe stata violata la disciplina anche sulla tenuta delle bombole GPL e i particolari in questo servizio. Era il 5 giugno di tre anni fa quando una bombola di gas che alimentava la frigitrice di uno dei tracca di biti alla vendita di polli allo spiedo esplose al centro del mercatino orionale nel pieno dell'ora di punta. Quel mercoledì di giugno le fiamme generate dall'esplosione e investirono una quindicina di persone. Due di loro, Giuseppe Scilio e Tiziana Nicastro persero la vita a causa delle ferite riportate. Tante altre invece hanno iniziato la loro battaglia personale di cui portano ancora sul corpo i segni. Da tre lunghi anni ormai chi è sopravvissuto reclama giustizia per chi non c'è più e per quelle famiglie cancellate dal fuoco. Oggi, dopo aver chiuso lunghe e meticolose indagini sull'esplosione al mercato orionale, arriva la richiesta di rinvio a giudizio che verrà valutata dal GUP del Tribunale proprio nelle prossime settimane. Il magistrato che ha coordinato le indagini ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per il 47enne grigentino Claudio Catanese, titolare della rivendita ambulante nella quale si verificò l'esplosione che poi ebbe conseguenze drammatiche. Il commerciante deve rispondere di omicidio colposo, di incendio, di lesioni colpose e di una lunga serie di violazioni amministrative delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Per gli investigatori sarebbe stata violata la disciplina anche sulla tenuta delle bombole GPL. Sarebbe stato il cedimento meccanico di una di quelle collocate nella rivendita mobile a generare la fuoriuscita dell'esplosione, con le fiamme che si propagarono in pochi istanti. Le indagini si sono estese anche a una società proprietaria di una stazione di rifornimento in territorio di Canicattì. Per gli investigatori, Catanese avrebbe utilizzato l'impianto della Sicil Petroli per riempire le bombole di GPL, oltre il limite consentito dalla normativa. Inoltre, gli accertamenti effettuati tra i resti della rivendita mobile, andata distrutta a causa dell'esplosione, avrebbero permesso di concludere che quattro bombole e una tannica piena di carburante erano esposte al sole, collocate a ridosso del sistema per cucinare i prodotti in rosticceria. In base a quanto concluso dalla procura, ci sarebbero state delle palesi inosservanze delle norme di sicurezza. Adesso sarà il GUP a valutare le richieste. Parallelamente, sono già stati avviati intanto i giudizi civili. Le indagini si sono dimostrate piuttosto complesse, con diversi accertamenti tecnici effettuati dai vigili del fuoco, dal personale dell'ispettorato del lavoro e dagli agenti di polizia. Catanese è difeso dagli avvocati Salvatore Pennica e Alfonso Neri. La società è invece rappresentata dal legale Gerlando Virone. Le famiglie delle due donne decedute, ma anche i tanti sopravvissuti che da quel giorno portano nel corpo e nell'anima le cicatrici profonde e quella tragedia, intanto attendono di avere giustizia. In più occasioni hanno chiesto che si arrivasse a individuare i responsabili di quanto accaduto. E questa mattina i rappresentanti della ZES Sicilia Orientale hanno incontrato gli imprenditori locali per rispondere alle domande e ai dubbi che vertono sullo sviluppo sostenibile di Gela. L'incontro hanno partecipato anche all'assessore allo sviluppo economico, Terenziano Di Stefano, il sindaco Lucio Greco. Vediamo. I rappresentanti della ZES Sicilia Orientale hanno incontrato stamattina gli imprenditori locali per un confronto sullo sviluppo sostenibile di Gela. Riteniamo come Sicindustria che è un'ultima chiamata alle armi cosiddetta, perché è un'occasione molto importante per questo territorio e da questo territorio vogliamo ripartire, questo è il nostro obiettivo. È il nostro ruolo e non ci sottraiamo alle nostre responsabilità. daremo tutte le indicazioni agli imprenditori che sono numerosi in sala, così come gli ordini professionali. La cosa che mi fa molto piacere sono anche i consiglieri comunali, significa che l'argomento interessante è assolutamente da sviluppare in maniera seria e coesa. Il decreto di legge numero 91 del 20 giugno 2017, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica del mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle zone economiche speciali all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. La ZES sta continuando e sta cominciando a parlare territori per cercare di parlare di sviluppo, per parlare di sostenibilità di questo sviluppo. Gela è un territorio che ha necessità di avere gli stimoli che la ZES può portare dal punto di vista della visione, di una visione di un territorio che si possa basare su quello che già ha ma andare oltre rispetto, parlo a tutto l'energetico, parlo allo sviluppo del porto, parlo alle connessioni con logistiche che devono arrivare. Oggi è un incontro che abbiamo voluto molto operativo qui nella sede di Confindustria proprio per parlare dei problemi che possono avere gli imprenditori nel dover investire ma anche per parlare di una visione che la ZES vuole dare ai territori in cui è referente. La ZES ha agevolazioni fiscali che sicuramente sono dei vantaggi indubbi per chiunque voglia investire, ma soprattutto vantaggi di sblocarizzazione, la possibilità di accedere a un'autorizzazione unica per gli investimenti, la possibilità di avere un unico referente che in qualche modo segue la pratica occupandosi di interagire con gli altri enti e quindi facendosi carico di quello che possono essere le perdite di tempo che a volte e spesso capitano nel momento in cui un investitore vuole agire. Queste credo che siano le due cose che cercheremo di chiarire. La ZES si è dotata di una struttura in questo momento in via di crescita ma già presente che cercherà di dare già da oggi tutto il supporto che gli imprenditori e chi vuole investire in questo territorio vorrà avere. All'incontro hanno partecipato anche l'assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano e il sindaco Lucio Greco. Parlare agli imprenditori a proposito di questa opportunità che sono le ZES, le zone economiche speciali per tutti i vantaggi di natura fiscale, previdenziale e anche di snellimento delle procedure che tutto questo comporta. Segue a tutta una serie di incontri che abbiamo avuto con la Regione, siamo riusciti alla fine a ottenere l'approvazione della ZES anche nel territorio di Gela, la sua perimetrazione e oggi un momento di confronto con gli imprenditori perché possa servire a dare un'azione di stimolo, di impulso agli imprenditori locali nel potere ancora credere, scommettersi in un territorio che può dare tantissime opportunità di sviluppo dal punto di vista economico, sociale e occupazionale. Diamo un'occhiata come di consueto al report quotidiano dell'ASP sull'emergenza pandemia. pandemia 71 nuovi casi di positività al covid nelle ultime 24 ore in città e 66 invece i guariti. In totale la linea dei positivi si attesta a 719 contagiati. In base ai dati di ASP risulta il ricovero in degenza ordinaria di un paziente gelese risultato positivo, un altro invece è stato dimesso. Parliamo della tangenziale perché ci sono nuove ombre sulla sua realizzazione. L'investimento a 300 milioni di euro per la nuova tangenziale va verso la fase decisiva. Il senatore Pietro Lorefice però spiega che si deve arrivare all'affidamento dei lavori entro fine anno per evitare il pesante rischio del definanziamento. Ci sono però pareri che vanno ancora a rilento. Vediamo. In settimana si cercherà di concludere un altro lungo capitolo preliminare nel complesso iter del progetto della nuova tangenziale. L'investimento di ANAS è superiore ai 300 milioni di euro e l'opera infrastrutturale tra quelle che rientrano nella lista delle priorità anche a livello nazionale. Per cercare di accelerare lo scorso anno è stato nominato un commissario che sta coordinando le diverse fasi istruttorie e progettuali. Un ulteriore parere deve essere rilasciato dall'autorità di Bacino. Le carte però sono ferme negli uffici dell'autorità di Bacino da circa sei mesi e in questi giorni appunto si tenterà di sbloccare l'iter come spiega anche il senatore Grillino Pietro Refice che ha sempre seguito la procedura attraverso la sua attività istituzionale. A marzo il Consiglio Comunale ha approvato la variante al PRG proprio per il progetto della tangenziale. Il commissario straordinario l'ingegnere Raffaele Celia a febbraio ha dato comunicazione a tutti gli enti interessati a partire dai comuni di Gela e Butera dell'avvio della fase della conferenza di servizi anche per apporre i vincoli di esproprio nelle aree sulle quali si svilupperà il percorso della tangenziale. La scadenza ora è sempre più vicina. Bisogna quindi chiudere entro giugno per andare poi in gara. Secondo l'Orefice si tratta comunque di una procedura di affidamento a carattere europeo che richiede del tempo per essere espletata. L'appalto per la realizzazione dell'opera va però affidato entro fine anno. In caso contrario la conseguenza sarebbe veramente pesante con il taglio del finanziamento. Secondo l'Orefice non è possibile ammettere una conclusione di questo tipo e quindi si lavora per procedere con celerità anche se gli uffici soprattutto quelli regionali devono dare riscontri. Non si possono infatti attendere mesi per un parere. Il ministero della transizione ecologica così come era stato spiegato dei tecnici di ANAS al consiglio comunale deve rilasciare il decreto della valutazione di impatto ambientale. I tempi insomma si fanno sempre più stringenti. Per molti la tangenziale assicurerebbe una nuova fase nei collegamenti viari ma anche un'importante risposta sul piano occupazionale. Lo stesso l'Orefice inoltre ha scritto alla prefettura di Caltanissetta per riprendere la questione dell'asse dei servizi dell'exasi che deve diventare un punto di snodo nei collegamenti tra la zona industriale e le arterie stradali che si diramano. E sempre in tema di sviluppo economico il parlamentare regionale del Partito Democratico Giuseppe Arancio ha scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi ai ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico affinché si riaccendano i riflettori sul parco agrofotovoltaico che avrebbe dovuto sorgere nelle campagne gelesi. Il deputato del DEM è convinto che il progetto possa essere ancora valido per la nuova filiera della produzione di agroenergia inserita tra l'altro anche all'interno del PNRR. Vediamo. Una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi ai ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico affinché si riaccendano i riflettori sul progetto ciliegino, il grande parco agrofotovoltaico che avrebbe dovuto sorgere nelle campagne gelesi per produrre circa 120 megawatt di energia. A scriverla è il parlamentare regionale del PD Giuseppe Arancio convinto che il progetto nato 12 anni fa e mai realizzato possa essere ancora valido per la nuova filiera della produzione di agroenergia inserita anche nel PNRR. Il progetto ciliegino era stato annunciato nel 2010 come una grande svolta per il territorio e l'allora presidente della regione Rosario Crocetta intervenne in pompa magna il giorno della posa della prima pietra. Gran parte della politica locale senza troppe differenze di schieramento sponsorizzò il max investimento per il polo agrofotovoltaico. Di concreto però non ci fu mai nulla, a eccezione dei proprietari spropriati e di continue vicissitudini che portarono al fermo quasi immediato dei lavori di movimento terra. Dopo nove anni dal rilascio dell'autorizzazione unica la regione poi calò il sipario sul progetto ciliegino, almeno per quanto riguarda la cooperativa agroverde che aveva ottenuto il provvedimento autorizzativo. La COP venne dichiarata decaduta, garanzie bancarie ritenute non adeguate, lavori paralizzati e mai completati e anche l'assenza di una vera e propria disponibilità giuridica delle aree furono i fattori che fecero decadere l'autorizzazione. Non bastarono nemmeno le quattro proroghe concesse nel corso degli anni, del resto gli investitori più volte ipotizzati, non si sono mai veramente concretizzati. Oggi però il parlamentare Dem rilancia sulla possibilità di ripartire da dove tutto si interruppe, considerata anche la grave crisi energetica derivante al conflitto russo-creino. È un progetto attualissimo nonostante la vetustà ed è un peccato non portarlo al termine, quindi mi sono preso l'interesse di scrivere al Presidente del Consiglio dei Ministri e poi anche ai ministri della transazione ecologica e delle attività produttive. Riteniamo che si debba riprendere perché ci permette di produrre energia pulita, ci permette di non utilizzare il fossile per produrla e ci permette di affrengarci anche dalla Russia. Quindi questo è il momento adatto. Perché non ora e non subito? In tutti questi anni le amministrazioni comunali che si sono succedute a Palazzo di Città non sono riuscite a trovare una soluzione. Anche il Sindaco Lucio Greco, pur ribadendo più volte che ci sarebbero diversi gruppi ancora interessati al progetto, non è mai andato oltre le ipotesi. Arancio però scrive anche a lui. Oltre a questa iniziativa che ho fatto, naturalmente ne ho messo al corrente anche il Sindaco, perché ho inviato anche una lettera al Sindaco, chiedendo anche di capire, perché mi ricordo che si era fatto, dopo un Consiglio comunale, un bando di tipo internazionale. Però non so a che punto è arrivata questa procedura. Mi farebbe piacere che il Sindaco mi scrivesse o ci vedessimo per discuterne, perché il progetto veramente merita. Dopodiché faremo anche un'interrogazione con i miei interlocutori nazionali, anche alla Camera, perché vogliamo dare forza e azione a questo progetto. Tra l'altro, venerdì passato abbiamo avuto una riunione con il nostro segretario nazionale e ne avevo parlato. Anche lui mi ha convinto a procedere in questa direzione, perché ha ritenuto il progetto molto valido, futuristico. E torniamo a parlare anche della presentazione dell'impianto che dovrebbe trattare i rifiuti qui in città, quello che era stato definito termovalorizzatore, che invece ieri è stato spiegato dai responsabili del progetto non lo è. C'è stato qualche strascico politico dopo l'incontro di ieri, le prestità anche politicamente consistenti non sono mai mancate e il Presidente della Commissione Consigliare Sanità e Ambiente, il forzista Rosario Trenito, torna ancora una volta a manifestarle. Ancora una volta, anche a nome di tutta la Commissione che presiede, denuncia la miopia del primo cittadino che non ha invitato i consiglieri al tavolo tenuto con i manager delle aziende che hanno presentato il maxiprogetto su rifiuti per la produzione di idrogeno e metanolo. In Commissione, lo stesso Trenito a inizio settimana ha avviato il confronto interno proprio sul tema del termovalorizzatore. La Commissione Ambiente, dice Trenito, istituzionalmente offesa per l'ennesima mancanza ricevuta dal Sindaco e per non essere stata invitata a una riunione talmente importante alla presenza della responsabile della costruzione del nuovo impianto. L'incontro, dice Trenito, era necessario estenderlo non solo alla Commissione ma all'intero Consiglio Comunale per dare le giuste informazioni e per esprimere un giudizio sulla realizzazione dell'impianto e ancora per valutare le ripercussioni che avrebbe sul territorio. Il Sindaco continua nella sua miopia e non guarda oltre la Giunta. Temendo il confronto con la Commissione e con il Consiglio che ha concluso il consigliere, rappresentano l'intera città. Trenito adesso ha scelto dunque di rivolgersi al Presidente dell'Assise Civica Salvatore Sammito per l'avvio immediato di un tavolo tecnico che coinvolga tutte le istituzioni. La cronaca nei cantieri delle villette residenziali di Contrada Catania Casciana. Le organizzazioni mafiose ebbero consistenti interessi. Il gruppo Alferi impose le estorsioni anche per le guardianie. Il GUP del Tribunale di Caltanissetta ha condannato Emanuele Cascino che da diversi anni collabora con la giustizia. Vediamo. Le attenzioni dei PM della DDA di Caltanissetta ormai diversi anni fa si concentrarono sui cantieri delle villette residenziali di Contrada Catania Casciana. Emersero forti interessi dei clan sia per i lavori che per tutti i servizi collaterali, compresi quelli delle guardianie. Anche il gruppo Alferi ebbe un ruolo. Il GUP del Tribunale di Caltanissetta al termine del giudizio abbreviato ha condannato a sei anni e cinque mesi di reclusione Emanuele Cascino, ex luogotenente del boss Peppa Alferi e da tempo collaboratore di giustizia. La decisione del giudice è stata formalizzata negli scorsi giorni. L'antimafia aveva chiesto la condanna a quattro anni e quattro mesi di detenzione. La difesa di Cascino ha sottolineato proprio il ruolo di collaboratore che con le sue dichiarazioni consentì di ricostruire la struttura del gruppo Alferi che magistrati ritengono la terza organizzazione di mafia del territorio locale, autonoma sia da Cosa Nostra che dà la stidda. L'inchiestato con ulteriori aspetti, con gli alfieri che sarebbero stati in grado di controllare l'intero mercato locale della vendita di anguri e come accertato con l'inchiesta Inferis. La condanna di Cascino era stata chiesta anche dai legali di parte civile che hanno assistito gli imprenditori che lavorarono nei cantieri del complesso residenziale di Contrada Catania-Casciana. Chi acquisiva subappalti era costretto ad adeguarsi alle imposizioni per evitare ritorsioni e danneggiamenti. Le aziende vessate e i titolari sono stati rappresentati dagli avvocati Nicoletta Cauchi, Vittorio Giardino, Giosef Donegani, Floriana Cacioppo e Carmelinda Anzalone. Alle parti civili il GUP ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Cascino è difeso dall'avvocato Francesco Provenzano e ormai da anni, dopo che ha deciso di collaborare con la giustizia, vive in una località segreta. Ancora la cronaca, un bar del centro storico è stato chiuso per sette giorni perché frequentato da pregiudicati. Lo ha disposto il questore Caltanissette Emanuele Ricifari che ha emesso un decreto di sospensione della licenza nei confronti del titolare di un bar del centro storico di Gela. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di ripetuti interventi delle pattuglie polizie che in più occasioni hanno identificato all'interno dell'esercizio commerciale dei pregiudicati. La polizia ha intensificato i servizi controllo del territorio proprio all'interno del comune di Gela con particolare attenzione al centro storico. Le volanti e il commissariato, coadiuvate da pattuglie dei reparti prevenzione crimine, hanno svolto infatti servizi straordinari di controllo del territorio volti al contrasto e l'illegalità diffusa, con particolare attenzione ai luoghi dove si svolge la movida teatro in passato di fatti delittuosi che hanno destato parecchio allarme sociale. Tra l'altro, anche nel recente passato, l'esercizio era stato oggetto di analogo ai provvedimenti di sospensione della licenza. Cambiamo argomento. Un incontro tra studenti e istituzioni per parlare della tutela dei beni culturali e della legalità si è tenuto ieri mattina al liceo classico Eschilo. Presenti all'evento anche il prefetto di Caltanissetta Chiara Armeni e il procuratore capo Fernando Asaro, oltre alle forze armate che operano direttamente sul territorio per la tutela dei beni culturali. Vediamo. L'Italia è stata la prima nazione al mondo a inserire nella propria costituzione la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Per questo motivo, ieri, gli studenti del liceo classico Eschilo di Gela hanno partecipato ad un incontro fortemente voluto dal preside Maurizio Tedesco sulla tutela dei beni culturali e la legalità. In un liceo classico in cui si studia la storia antica, organizzare un convegno che parli di beni culturali, di patrimonio artistico e di legalità certamente è, diciamo, da un certo punto di vista un privilegio, dall'altro è anche un onore poterlo ospitare, ma soprattutto è uno spunto di riflessione per la normale attività didattica. Tra i relatori dell'evento, oltre all'assessore Licata che ha rappresentato la giunta comunale, alcune delle figure più importanti che rotano attorno alla tutela del patrimonio culturale locale, come il prefetto di Caltanissette, il procuratore Capo Asaro e i colonnelli provinciali delle forze armate, carabinieri e guardie di finanza. Se il patrimonio culturale rappresenta la mia storia, la storia di tutti noi, allora è qualcosa di nostro e mi aiuta a uscire dal mio individualismo, dai miei problemi solitari, mi aiuta perché mi fa capire che io sono parte di una comunità, sono parte di una collettività, ecco perché tutto questo si collega ai percorsi di legalità, perché se io sono parte di una collettività mi assumo, esercito i miei diritti, ma mi assumo le mie responsabilità. L'attenzione dell'arma per la tutela del patrimonio culturale risale a tanti anni fa, a livello nazionale, con l'istituzione di un comando che ha la competenza specifica su questa tematica, quindi sulla salvaguardia del patrimonio culturale, sul contrasto delle forme illecite di commercializzazione di beni archeologici. È fondamentale l'investimento sui ragazzi, sui ragazzi perché comunque intanto formano parte delle loro famiglie e anche loro possono essere un veicolo importante di legalità, una parola che oggi abbiamo ripetuto spesso, e poi perché comunque i ragazzi, soprattutto a questa età, rappresentano quello che poi sarà il futuro della società civile qui a Gela e non solo a Gela, nella Sicilia, piuttosto che nel resto d'Italia. Quindi avere già un pensiero legalmente orientato, la consapevolezza di cosa anche le istituzioni fanno e possono fare per il benessere di tutti è fondamentale per avere poi dei cittadini migliori che decideranno in maniera migliore e chiaramente si comporteranno anche in maniera speriamo migliore. Il binomio cultura e legalità deve essere veramente, deve dare quello stimolo ai nostri giovani per poter andare avanti e sfruttare le potenzialità di questo bellissimo territorio nella maniera più corretta. Il tombarolo non ama l'arte, la cultura, l'archeologia assolutamente. Lo scava certamente per amore dell'archeologia così come fa il professionista del settore, ma scava soltanto per fini di lucro o fini diversi da quelli dell'amore e del rispetto per i nostri beni archeologici. I ragazzi qui a Gela sono sempre molto attenti, presenti, hanno un sorriso e una curiosità che è davvero stimolante non per noi stessi che stiamo lì a cercare di raccontare e di lanciare determinati messaggi. Al contrario riceviamo più noi che loro in certi passaggi, perché usciamo davvero rafforzati in questa idea di cultura e di legalità. Le gare del programma di finanziamento Agenda Urbana vanno completate prima possibile. Il vice sindaco Terenziano Di Stefano lo ha spiegato ai RUP davanti ai ritardi che rischiano di far slittare il cronoprogramma di un sistema di finanziamento visto ormai come modello da seguire il servizio. E' un caposaldo imprescindibile della programmazione della Giunta Greco Agenda Urbana che da diversi mesi e nella fase culminante è arrivata ad essere presa a modello organizzativo oppure per altre linee di finanziamento sulle quali l'amministrazione comunale riversa gran parte delle proprie attenzioni. Però c'è la necessità di accelerare per giungere all'affidamento dei lavori completando le procedure di gara. Martedì l'assessore Terenziano Di Stefano l'ha ripetuto davanti ai RUP che stanno seguendo la fase di gara dei progetti che in totale valgono circa 20 milioni di euro e sono stati tutti finanziati con decreti regionali. In questo frangente forse per la prima volta il percorso di Agenda Urbana sembra veramente risentire delle risorse del comune ridotte a lumicino almeno sul piano del personale. Il numero dei RUP è al minimo e devono sostenere un peso complessivo fatto di decine di procedure da istruire. Le ripercussioni adesso toccano Agenda Urbana che anche a livello regionale si è invece dimostrata tra le più efficienti. Il vice sindaco Di Stefano ha spiegato che certamente i RUP seppur in numero assolutamente ridotto devono occuparsi anche degli altri programmi di finanziamento come Patto per il Sud ma Agenda Urbana non può rimanere indietro sulla carta stando ai programmi iniziali della regione. I lavori e l'interattività di rendicontazione dovrebbero essere completati entro la fine del prossimo anno. Anzitutto per evitare sorprese e tagli sicuramente ci sarà bisogno di una finestra temporale ulteriore di Stefano. L'autorità urbana, i funzionari comunali e i professionisti esterni del gruppo di lavoro avevano tracciato la linea da seguire. Entro la fine del mese di maggio si sarebbero dovute completare tutte le procedure di gara ad eccezione di due progetti più complessi da chiudere comunque non oltre giugno. Al momento ci sono ritardi che vanno colmati e prima possibile le gare riguardano interventi complessivi sull'efficientamento energetico ma anche sulla messa in sicurezza di aree fortemente instabili come quella del costone Borsellino e ancora il centro per donne vittime di violenza, una struttura pubblica per anziani e il polo dell'infanzia alla Pirandello. La direttiva martedì nel corso di una riunione del gruppo tecnico l'ha data di Stefano che non vuole incorrere nei peccati di un tempo che hanno portato i suoi predecessori a sbattere contro il muro della burocrazia e dei tempi lunghi. Ad inizio settimana invece in municipio è stata trasmessa la convenzione ministeriale che avvia un altro importante programma di finanziamento con i progetti di qualità dell'abitare coperti da fondi già riconosciuti per un totale di 30 milioni di euro. E una notizia di sport prima di chiudere. Doppio appuntamento ieri allo stadio Vincenzo Presti dove si sono affrontate prima la formazione dell'Associazione Nazionale Magistrati contro gli avvocati del Foro I Gela e poi la squadra del Liceo Classico Eschilo contro quella dell'Istituto Tecnico Economico Luigi Sturso. La prima partita se l'è aggiudicata la formazione a compagine dei magistrati che ha vinto sulla formazione dei legali per 3 a 2. La partita tra le due scuole invece è stata vinta ai ragazzi dello Sturso con un putteggio di 7 a 3. L'obiettivo era comunque quello di mandare un messaggio di pace e contro il conflitto russo-ucraino ed è stato assolutamente centrato in pieno con donazioni e raccolte fondi per la cooperativa sociale nissena etnos come quella della società calcistica Gela FC che ha donato più di 100 chili di pasta. Bene questa era la nostra ultima notizia siamo in chiusura naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianoigela.it se invece volete rivedere o condividere i nostri servizi li trovate tutti sulle nostre pagine social facebook instagram e youtube. Per il momento è tutto io vi saluto e vi lascio come di consueto alle previsioni meteo grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti